È ufficiale e definitivo, lo ha chiarito il Presidente Conte nel corso della conferenza stampa di domenica sera. A scuola si tornerà a settembre e a giugno l'esame di Stato, una sola prova orale, si svolgerà in presenza con modalità che dovranno però essere meglio definite e precisate e soprattutto se si troverà il modo di garantire la sicurezza degli studenti e del personale docente e ata. Ma se finalmente c'è certezza su questo punto, qualche problema in sospeso c'è ancora su un tema molto delicato che preoccupa non poco i docenti di tutta Italia, quello della valutazione finale degli alunni. Come fare valutazione? Usare voti o giudizi sintetici? Ma si possono valutare gli studenti sulla base di ciò che hanno fatto o non fatto nel periodo della didattica a distanza? Per la verità, la legge di conversione del Decreto Cura Italia contiene in proposito una disposizione molto interessante che chiarisce un po' la questione. La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19 produce gli stessi effetti delle attività previste dalle norme già in vigore sulla valutazione e contenute nel Decreto Legislativo 62 del 2017 e nel Regolamento 122 del 2009. Così appunto si legge nella legge di conversione del Decreto. Nel dossier prodotto dall'Ufficio Legislativo della Camera si chiarisce ancora meglio il problema. La disposizione, si legge nel dossier, serve a garantire efficacia alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione venga svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente. La norma dovrebbe insomma porre fine ai dubbi e anche alle polemiche degli ultimi giorni. È del tutto legittimo collegare la valutazione degli studenti alle attività svolte con la didattica a distanza senza correre il rischio di incorrere in procedure o atti illegittimi. Tutto ciò non chiude però il problema che resta del tutto intatto. È vero infatti che nel corso dell'attività di didattica a distanza la valutazione dovrebbe avere un carattere più formativo che sommativo. Ma resta il fatto che al termine dell'anno scolastico i consigli di classe dovranno utilizzare voti numerici per indicare i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno. E su questo il dibattito è ampiamente aperto e non poche associazioni professionali sono già intervenute per dire la loro. Movimento di cooperazione educativa e Cidi per esempio stanno diffondendo un documento per proporre che l'anno scolastico si concluda senza voti numerici e per sostenere le scuole in tale decisione suggeriscono anche un modello di delibera che i collegi dei docenti potrebbero adottare già a partire dai prossimi giorni. Un documento molto simile è stato prodotto e diffuso in Piemonte dalle stesse associazioni insieme con altre anche di diverso orientamento culturale. Ma c'è un altro dato interessante che sta emergendo nel dibattito in rete. Molti sostengono per esempio che quando la scuola tornerà alla normalità il tema della valutazione non dovrà essere abbandonato in alcun modo e bisognerà interrogarsi seriamente su come far davvero prevalere la sua funzione formativa su quella sommativa. Il tema è di grande interesse per tutti, per moltissimi insegnanti, quindi su questo ovviamente noi ritorneremo. Continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Soprattutto continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni, i vostri commenti, i vostri suggerimenti. Noi ne daremo conto come sempre.